buongiorno buonasera a tutti ragazzi eccoci qui ritroviamo il canale imperium 1927 sono simone e oggi per prima cosa andremo a salutare due persone che nel precedente video hanno lasciato un commento e volevano essere salutate e per questo vi saluto e vi mando un bacione oggi parleremo della partita di stasera roma fiorentina ebbene sì è arrivato anche questo giorno questa diciamo questa partita in cui strapperemo il punticino chi lo sa vabbè comunque roma fiorentina una notizia bellissima è che olsen non gioca ma andiamo ma andiamo andiamo ma giocherà antonio mirante mirante che per me sicuramente potrà fare meglio di olsen ecco la cuffata preparate per stasera vedremo un po vediamo un po quello che potrà fare questa sera in difesa abbiamo kolarov guangisus fazio e santon santon che speriamo che stasera beccherà la partita buona mentre al centrocampo i tre di centrocampo sono zonzì e vabbè perché de rossi ha un lieve infortunio cristante brian cristante e nicolò zagnolo mentre in attacco ritorna junder titolare dopo quasi due due mesi dopo quasi due mesi e a sinistra abbiamo elmonito perotti speriamo che si sia che si sia imparato qualche altra finta vediamo un po se riesce a puntare l'uomo vediamo un po se riesce a crossa vediamo un po tutto vediamo se capire il rigorino che ci permetterà il gol per passare avanti per pareggiare vediamo un po quello che accadrà questa sera mentre contro abbiamo il 4 di 3 della fiorentina in porta alban la font il francese la font questa stagione bene si sta confermando un portiere titolare a tutti i livelli anche contro noi quel giorno hanno abbiamo perso 7 a 1 qualche parata abbiamo fatto l'ha fatta abbiamo abbiamo subito 7 gol vabbè qualche parata buona l'ha fatta e anche in campionato sta facendo buonissime prestazioni mentre in difesa abbiamo biraghi terzino sinistro italiano che a mio parere può fare anche il titolare nella nostra nazionale italiana i centrali di difesa sono vito rugò e pezzella buonissimi difensori centrali e sulla destra sulla di destra troviamo il giovane milenkovic milenkovic adattato anche come terzino il suo ruolo il suo ruolo il suo ruolo è il difensore come vi ho detto adattato come terzino mentre poi a centrocampo troviamo benassi veredù rigorista anche lui infallibile e il nostro gerson il brasiliano gerson l'abbiamo dato quest'estate alla viola che forse lo riscatterà perché gerson come sappiamo può fare anche l'attaccante o meglio l'ala sinistra alla destra dipende un po da come gli è via poi in attacco troviamo il belga mirayas l'argentino simeone e il colombiano muriel luis muriel che stasera già da adesso avrà il piedino caldo per fare il gol per la viola poi lasciando questo il punto di stasera per la partita ci sono voci che dicono che de rossi il prossimo anno o non so non so quando sarà il nuovo allenatore della roma mentre ritotti come dirigente sportivo lo vedo molto bene poi di francesco forse è stato convinto ad allenare la fiorentina il prossimo anno e si parla ancora allenatori come sarri giampaoli giampaolo come si chiama quello della sampdoria e è anche un possibile trasferimento dal celsi alla roma del pp da wine come stiamo dicendo nei precedenti video come già detto se non si abbassa lo stipendio questo non viene cioè non viene se non si abbassa lo stipendio 10 milioni minimo che ne so a 56 quello la non viene cioè non accetterà mai su nome 6 milioni però staremo a vedere però ragazzi scusate se lo ripeto ma la notizia importante di oggi è che non gioca robin olsen quindi e stasera forza roma e noi ci vediamo in un prossimo video ciao